Tre mesi di appuntamenti declinati al femminile per un calendario di eventi che coinvolgerà tutto il territorio cittadino. Torna il marzo donna 2015, la manifestazione promossa dal Comune per celebrare in tutte le possibili sfumature l'altra metà dell'universo. Sono previsti incontri su alimentazione, salute e benessere, aperti sportelli di ascolto e orientamento al lavoro ed organizzati eventi con musica e poesia al femminile. Il programma delle iniziative, che dai primi di marzo si prolungherà fino al mese di maggio, è stato presentato in sala giunta dalla consigliera per le pari opportunità Simona Marino. È in linea di continuità con quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto dei bisogni e desideri per un'economia e una pratica politica delle donne. Quest'anno siamo passati dai desideri ai saperi delle donne, la cura di sé e la cura del mondo, nella convinzione che le donne hanno delle risorse e dei saperi che sono poco visibili ma che mantengono in piedi un tessuto sociale. Ed era opportuno che questa invisibilità fosse finalmente portata alla luce. Il programma delle manifestazioni, che si terranno nelle municipalità, prevede anche reading, spettacoli e incontri su artigianato e ambiente. Hanno risposto in tantissime, sia singole che associazioni, che le municipalità. Quindi penso che sia veramente una primavera, donna, perché cominciamo a marzo ma finiamo a maggio. Cioè non siamo riusciti a contenere tutte le proposte in un solo mese, perché sono talmente tante e talmente alta la risposta che abbiamo avuto dalle cittadine napoletane che valeva la pena prolungarsi.